Guardate che cosa fa questo parassita, stringe la mano pure ai parassiti come lui. Allora guardate, sta mettendo i cartellini della presenza dei parlamentari assenti. Fra questi c'è anche Giorgio Napolitano, vedi che cosa fa questo parassita? Poi parlano dei furbetti dei cartellini, questi chi sono? Eh, giornalisti falsi e disonesti come loro siete voi. Guardate, guardate, 400 euro costa la presenza di un parassita di questo, costa 400 euro. Ve lo faccio rivedere, guardate, 400 euro, guarda va, stringe la mano agli stronzi come lui, guarda va. Che coraggio, guarda va, per questo vogliono andare al governo. Così sistemate gli affari degli italiani, è vero? Così? Il vitalizio non ve la volete togliere? Non vi basta quando vi rubate, guardate va. Guarda sta facendo la scelta di chi sta lì, guarda, guarda. Guarda, guarda, parassite disonesto, guarda, guarda. Guardate, andatevi a fanculo, pezzi di merda. Non votate a questa gentaglia, non li votate, sono del PD, non li votate.